forse arrivano forse arrivano li avete convinti 100% come al solito si bugga inizialmente devo dire che la voce project mi ha un po' confuso mi ha lasciato un po' confuso non avevo capito come si può counterare Fitz non lo so è un assassino non morirci ma la mia Seju è clean guarda che bellina che è dai guarda che recall diventa uno schifo che si chiude dai bella ti piace? ti piace ragazzi guarda che bellina che è hai visto? è fighissimo cacchio ma l'hai vista? ma Diana che ha una ma io direi anche qualsiasi tank mid lane no? nice skin vedi? thanks vedi? cosa ha detto? nice skin dai bellina bellina diventa un tavolino si vabbè questo è il solito balletto purtroppo non mi li per il leash ma va bene lo stesso full cleariamo ragazzi o o no ah non ho maxato la spell ecco perché non faccio danni ai campi allora ragazzi mi sto ok 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 capisco ma c'era qualcosa che non andava ero tipo ma io così già non me ricordo così che non avevo preso la spell ok chiaro adesso è chiaro tutto estremamente chiaro adesso no è perché pensavo vabbè non è il mini però boh tra me e me qualcosa non andava vai broken le spell ragazzi pensavo fosse intentional sì intentional repeating la parte mia sicuramente intentional repeating già mi fa appagarli non proprio comodissimi da fare eh vabbè visto che abbiamo allungato un po' il patting ci scappa il ganchino su sylas che rinomato inter il pick no il signore non so chi sia un blade potrebbe essere uno bravissimo guarda non mi sei piaciuto te lo devo dire in maniera onesta te lo dico non mi sei piaciuto fightami 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 senza poter affettare sei giovani vabbè però sei patetico sei bro eh te lo devo dire sei patetico eeeh dunque 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 ragazzi eeeh guarda la mia lux mamma mia che cringe ok è comunque patetica ragazzi resta comunque patetica non lo so è che lux non ha aiutato una spell me nemmeno a pagarla eeeh io comunque kazix l'ho fightato e mi sono piaciuto perchè sono stato aggressivo poi comunque io ho rubato così io ho rubato ragazzi eeeh devi girarti devi girarti perchè c'è lux devi andare verso di lei ma ma no sono sono tiltato ragazzi sono onestamente tiltato sono palesemente tiltato mamma mia mamma mia mamma veramente ragazzi è di uno sbagliato eeeh dion vai baita baita non ti fermare vai ok ok ragazzi ok mamma mia non è tata una ragazzi ma chi è questo ma chi è questo individuo 5-1-1 stylus al minuto 5 ok 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 stylus ha terminato inter ma ma hai visto lux ci stava solo me però poteva vabbè oddio dobbiamo andare mid dobbiamo andare per forza sono ok 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 coraggioso sei coraggioso pensiamo aspettassimo una way però va bene lo stesso shadow preso poi persa l'isales assassino un aram saras ha 12 minion tra l'altro ma è palese arriva per cercare no però la vera domanda è quello che è ancora il flash up dopo dopo 10 minuti di fight ancora con il flash up va bene va bene va bene va bene torniamo a far micchiare bottelein sta vincendo anche let's go il flash bravi ragazzi però devo prendere un'altra champion perché alla fine del game a quest'anno sono divertenti se fai ti a caso per me ebbè ebbè si giovani non è proprio il più adatto no per rischermi scegli vorrei vorrei dovrei smai oh shit oh shit per lui intendo vogliamo vogliamo devare abbiamo la mia eco renekton funziona stra bene lui ha la r la wave grossa e loro mi devono missa però adesso la metto loro mi devono vedere non credo sia big deal sì ehi che bella vera renekton in top è lux hate ad una spell su target sonata è la prima che vedo sì insane pretty fucking insane andiamo di recall e 5 assist le abbiamo comunque abbiamo fightato siamo stati super valorosi finalmente ho anche questo per clearare decentemente i minion un'altra di questa per dopo tabi addi 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 sì facciamoci tabi tabi game ma non si preoccupi non si preoccupi vogliamo smettere questo o il red golem mi offri il red golem ho davvero bisogno di livello 6 ragazzi spero non ci sia kzx ma non credo tutto bene gufo grazie tutto tutto bene livello 6 e livello 6 fatto andiamo a cancare la bot ok con la volti dovrebbe essere facile ce l'ha il portalozzo let's go let's go andiamo ai tabi andiamo a topside se riesco anche allo scatto il red golem andrebbe fare 2v1 se non sbaglio credo ecco la lead che ha l'avrà sicuramente giocata male non esiste 6 5 2 anzi 6 6 1 contro 0 4 quello lì e l'altro faccia double peccato peccato e riesce a venire un armino io vorrei prendere la wave top e anche lo scatto ma oh yikes sei morta mortissima sei c'è il tp però e anche lo scatto ma tutti gli altri ragazzi cioè scusami no no allora gliele abbiamo gliele abbiamo petatissimi magari non l'ha petata a boh che strano ragazzi sto game comunque era scusate era un mio no più o meno il nostro side ok no ma come è morto no 8 2 huh oh mamma mia la tragedia vabbè lux ha preso kazix e ci riusciamo a prendere l'herald ok con l'herald della torre top vado a prendere questa wave questo game è una pulpiesta non si capisce niente ma cosa non sto scrivendo non mi ha scritto messaggi in chat io ci sarei top lane onestamente set lo riusciamo a fare easy aspettiamo l'arrivo rilecton vado in dq faccio w stand e poi dopo r se serve ma la r nemmeno serve no no non ti farei venire ma beh vabbè ma ti pare che sono avanti ti pare che guarda vai quando va per questo eh ma perché ti sei fatto spottare sei un pagliaccio sei sei cioè va bene va bene dai torre presa possiamo devarlo sulla t2 se vuoi non dovrebbe avermi visto adesso si si resta ah ma cyrus dov'è bro ci doveva buttare in molto prima guard drink e renecton non si butta in pazzo e vabbè è andato male proprio questa insomma diciamo che non siamo molto coordinati che triste però ma si è una tragedia ma non dovrebbe cioè ogni volta è una tragedia ma dovrebbe essere sempre prima che poi con se i giovani funziona particolarmente bene luce ha tipato veramente se volete c'è la r io ho niente veramente se l'ulti tu dopo il portale vai tra l'altro io non ho farm ragazzi abbiamo abbiamo scelto un campione con troppo poco outlay potential comunque per per giocare super aggro perché poi devono fare bene gli altri gli altri non fanno ovviamente bene quindi ciao anche te nuclear fortunatamente ho già pranzato oh mamma mia quanto tempo ha preso e quanto c'è voluto ragazzi era un bel prezzo già bisogna di salas però è il mio sì diciamo che è fondamentale l'ingredaction qui grazie vinks temimi no il carro ha uno vino secondo voi no eh con uno vino è un po' strano devo dire tra cicciotti tutti andamocene back e grazie anche del polvo anche non voleva essere una gag non ho ben capito non ho ben capito l'interazione ambigua ragazzi ma noi vogliamo fai dare qua proprio non c'è fiducia ragazzi nei confronti la mia seggio ma veramente slova così tanto? ma se ma vabbè ma non è vero ma che è quello slow? ma del 3000% ma è disgustoso scusatemi ma che roba è? vabbè 90%? ed è ok per la riot con quel range ok ok dai jinx let's go supernova dobbiamo fare dobbiamo fare estremamente in fretta allora allora stavo cercando di baitare in realtà ma troppo in suonato cioè troppo presto una twin e diciamo che il game è strano e io ci sto mettendo il mio per renderlo ancora più strano erano distanti li ho visti distanti però ho detto ok inizio a prendere tempo e fai ticchio poi vado back e poi rientro e no le risposte hanno trollato oh porca mi sarebbe beccato cavoli dobbiamo gruppare di 2 premier r su barus sylas kazix uno di quelli che one shotiamo anche naturus va bene perchè non è il prendente tank alla fine e senza aftershock e fai tiamo mi serve questo wow vedi facile tipo qui se contestano andrebbero picchiati solo che siamo parecchio durmienti ok facciamoci anche il bar ne abbiamo cambiato vada di che stai parlando per i fragole grazie muoio se mi ha trovato qualcuno tanki per me mi prego muoio con uno spunto attaccate guardo pure tu guardo la mia vita ok ovviamente ho temato la perfezione oh mamma ma di gare went crazy oh shit ok ok se 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 no 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 ma maybe no 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 bene 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 dai dai che si è cambaccato bisogna solo gruppare ragazzi a questo punto tutto è fatta needed gold che fagliaccio eh vabbè flash flash rimane un po' di flash questo ok ok facile non mi abbatteranno mai ragazzi che dodger vogliamo ricruppiamo vi prego ricruppiamo dai che ci siamo dai che ci siamo dai che ci siamo ragazzi è fatta è fatta ma che dici ma che dici quando vai ma quale abilità è for fun questo è potrebbe essere importante mamma ma si fa vabbè ok è morto lo stesso però ma è tra dentro il portale ok bene ok ragazzi ma questo è una prekill dove è il mio team ma dove siamo solo gli naram che poi siamo come degli eroi dai ma sono dei ma che cosa fanno sono dei bagliacci ma non fightano mai tutti i free fight ah li odio ma c'è anche il drago adesso lo perdiamo perché perché non sono di dentro ragazzi oh no dragon soul è andata a meno che lux a meno che lux il miracolo di lux il miracolo di lux io ci credo ci credo chiudo gli occhi prego fightate fightate perché avete paura fightate è entrato il portale 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 no non di lì vabbè il portale il portale il portale è successo il miracolo di lux per i veri credenti ciao 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 è successo il miracolo si è sciolto il sangue vabbè a posto lo vedo confuso Renekton beh poteva andare peggio dai quella torretta la vorrei ma non è arrivato il momento di quella torretta mancano 500 gold non tantissime ok blue buff in 4 secondi e 150 gold mancanti dai guarda è fatto del miracolo per questo quasi meriteresti blu se non fosse che sia un pagliaccio tu si mette la cura sotto i piedi guarda assolutamente selfish oh item ma alla fine ho preso la warmog ma non sono convintissimo ragazzi è vero che bella guarda quanto tecnologico il maiale ultima generazione di maiali non è meglio sunfire probabilmente non necessariamente credo in realtà che non parli da quello da cosa vuoi fare grazie sono tutti pre-engage ancora non vorrei dire che scena che scena è anche questo game con sé ce l'abbiamo portato a casa insane seju player win rate elevatissimo sto ancora toncando la torre dai guarda successo di natrus vabbè ma che naram ragazzi ma che naram ma se ero 1v9 con la mia sejuvani dovevo sempre inda solo e combattevo e impaitavo e ingaggiavo ogni tanto qualcuno ti discreta però ma tutto io tutto io ho fatto quasi tutto io naram discreto voto 10 me 7 naram this top and the sea has the audacity to say jungle deep jungle deep lo scrivo anch'io allora uh un game è la prova per master guarda i danni di sejuani guarda i danni di sejuani fieri 22.000 guardali 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 comunque il nostro rankton un po' bad a mio avviso abbastanza bad se posso dire dai miei ragazzi